Informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, alle voto per l'Europa in occasione delle prossime elezioni del Parlamento Europeo attraverso una serie di iniziative promosse dalla Commissione Europea in tutto il territorio nazionale. In questo contesto a Trieste andrà in scena l'evento spettacolo Diritti in Europa, martedì 15 aprile alle ore 11 al Teatro Miele organizzato dall'ufficio Europe Direct Eurodesk del Comune e dal CDE Centro di Documentazione Europea dell'Università di Trieste e dell'Associazione Culturale Spesati. L'iniziativa rientra nel progetto Il mio voto in Europa, la scelta per il mio futuro realizzato dalla rete italiana del CDE e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea e nell'ambito di dibattiti regionali sul futuro dell'Unione Europea. Qui parteciperanno 175 studenti delle scuole superiori e università, tra cui l'Istituto Nautico, l'Iceo Carducci, Galvani, Max Fabiani, Ciofs, che è l'Istituto Professionale. L'evento che è stato presentato all'Europe Direct del Comune alla presenza del Vice Sindaco Martini, del Direttore del Servizio Comunicazione, Maira Zalattini e da altri responsabili dell'evento, hanno parlato come ogni studente potrà leggere un diritto e nella proiezione di alcuni brevi video di docenti e collaboratori dell'Università di Trieste, Dipartimento di Scienze, Giuridiche e del Linguaggio e dell'Interpretazione della Traduzione. I giuristi illustrano i principi cardie della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Nel corso dello spettacolo sarà inoltre proiettato il video design curato da Giordano Bianchi e Martina Marafatto. Al termine del letturo, un momento di confronto tra il pubblico in sala e alcuni esperti, tra gli altri Giorgio Rossetti, Presidente dell'Associazione dei Dialoghi Europei e Fabio Spitali, professore aggregato e ricercatore di diritto dell'Unione Europea dell'Università di Trieste.